AICA, l'azienda idrica Comuni Agrigentini, che dallo scorso mese di agosto gestisce il servizio idrico integrato in provincia, finalmente interviene in alcune zone della città di Sciacca, interessate da diversi mesi da perdite idriche o fognarie. Sono iniziati questa mattina i lavori per la sistemazione della rete fognaria in Piazza Marconi, a Porta Palermo. Un intervento atteso da mesi in questa centralissima zona del centro storico cittadino, dove a suo tempo venne collocata una delle tante transenne presenti in città per delimitare l'area del cedimento causato da un problema alla rete fognaria. Da oggi la viabilità nella zona è modificata, chi proviene dalla via Giuseppe Licata è costretto a svoltare per la via Pietro Gerardi in direzione Piazza Carmine. Si tratta di lavori di somma urgenza che dureranno due o tre giorni, salvo imprevisti legati al meteo. Sempre questa mattina un'altra squadra di operai incaricata dall'azienda idrica Comuni Agrigentini è a lavoro in via Gaia di Garaffe. Qui c'è da sistemare un problema al collettore fognario, danneggiato a seguito dell'alluvione dello scorso mese di novembre. Da quel giorno la strada è stata interdetta al transito veicolare. Personale e mezzi di AICA hanno avviato questa mattina l'intervento, sollecitato anche in questo caso dal Comune di Sciacca. Si spera che i lavori vengano completati entro breve tempo per riaprire l'alteria al traffico veicolare. Insomma ci sono i primi segnali di vita da parte dell'azienda idrica Comuni Agrigentini che per mesi ha avuto non poche difficoltà a garantire una piena attività di manutenzione delle reti. A giorni tra l'altro potrebbe arrivare una ulteriore squadra alla luce di una miriade di interventi che sono necessari nella città di Sciacca. La priorità, fa sapere oggi al nostro telegiornale l'assessore Roberto Locicero, sarà data alla via Aldomoro in Contrada Isabella, una delle arterie cittadine più disastrate del perimetro urbano e dove insistono tantissime perdite che vanno urgentemente riparate, prima di procedere poi alla sistemazione del manto stradale. L'intervento sarà preceduto nelle prossime ore da un sopralluogo congiunto da parte di Comune e AICA che servirà per individuare i tratti dove occorrerà intervenire.